La mia mare, l'ultra, l'acqua mia, ci sarà la nota, la buia, l'assassina Salutiamo il generale! Salutiamo il generale! Il raffinamento di stazione, come il treno che portava solo Nicolás è uno dei più grandi amici di Vincenzo Framminio e oggi l'ultra l'hanno voluto ricordare così, splendido, esemplare di Vincenzo Framminio Certo, noi Vincenzo ce l'abbiamo nel cuore e ce l'escerà nel cuore per tutta la vita io credo che tutta l'anciano ha voluto bene a Vincenzo Vincenzo per noi era come un fratello voi potete ammirare, io credo, parlo di tutto per la società sportiva l'anciano per tutto il pubblico l'ancianese, Vincenzo per noi è rimasto nel cuore e rimarrà nel cuore E quando se ne va un'ultra, anche da parte delle altre tifoserie arrivano manifestazioni di grande solidarietà? No, certo, sono state, hanno mandato dei fax, le tifoserie di Andrea, di Bari, di Montevarchi, di Barletta, di Piscele sono state tutti a favore vicino al nostro dolore questo io ringrazio, un ringraziamento totale a tutte le tifoserie d'Italia che ci sono state molto vicine Grazie a tutti